Dopo circa 15 anni di attività teatrale. Debutta nel 1992 nel cinema nella discesa di Eclat Floristella di Aurelio Grimaldi. Prosegue in ruoli difficili in La ribelle. Le buttane e i cento passi. Di Marco Tullio Giordana, dove interpreta la madre di Peppino Impastato. Negli ultimi anni lavora anche in fiction televisive. Dal 2011 è protagonista, insieme a Santo Pennisi, del programma culinario Masseria Sciarra in onda sul canale Alice.